Castellabate Film Festival Questa sera ospitiamo nel salottino televisivo dedicato agli artisti nazionali e internazionali due autori e ve li presento subito. C'è Marco Graziosi che ha girato un videoclip dove hai messo Cappuccetto Rosso e magari dopo ci risponderà dove l'ha messo oppure forse è lui che chiede ma da questo lo sapremo sicuramente dalla sua voce dove sarà Cappuccetto Rosso. E poi il giovanissimo Luca Di Paolo, ho detto bene Luca? All'inizio nel backstage confondevo Luca Di Paolo, adesso l'ho detto bene in diretta e sono contento. Non può mancare la presenza del mio addetto stampa del festival, Raffaele Pio Marrone che mi ha anticipato, come vedete è molto veloce, rapido, sempre presente, per raccontarvi attraverso i social, attraverso anche Cilento Channel, canale 636 del Digitale Terrestre, questa bellissima avventura del festival che in realtà in questo terzo anno prende realmente il via con 6 giornate consecutive, una serie di attività dedicate ai ragazzi perché pensiamo che anche i ragazzi, soprattutto loro, si debbano avvicinare al cinema e poi dopo le 18 spazio agli autori nazionali e internazionali con cortometraggi, documentari, lungometraggi, film sperimentali, videoclip, social video e animazione. Ma questa sera, in questa conferenza stampa, vogliamo conoscere un autore che ieri sera ha presentato già il suo videoclip dove hai messo Cappuccetto Rosso, Marco Graziosi. Esatto. Allora Marco, benvenuto a Castellabate innanzitutto. Grazie, in questo posto meraviglioso, mi sono innamorato di questo posto. Sono contento. Allora, parliamo subito del videoclip. Che cos'è, perché hai voluto girarlo e insomma forse sei un musicista, non lo so. I telespettatori vogliono conoscerti. Io sono un cantatore e a marzo è uscito il mio album e tra i singoli usciti di quest'album c'era appunto Dov'è messo Cappuccetto Rosso e il videoclip di questo brano è stato girato, scritto e diretto da un grande regista che è Francesco Cabras, che è un regista che ha girato tantissimi videoclip per tantissimi artisti come Gazzè, Caparezza, Giorgia. E quindi lo salutiamo. Quindi lo salutiamo, lui non è potuto venire ma lo salutiamo. Ma verrà l'anno prossimo. L'anno prossimo verremo insieme. Me lo porterai. Esatto. Senti Marco, ma perché questo titolo dove hai messo Cappuccetto Rosso, a chi ti rivolgi poi? Ma diciamo che è più un posto da ricercare, no? Il posto dove abbiamo forse smarrito quella spontaneità, quella purezza, un po' il concetto del fanciullino musico di Pascoli, no? Quindi è un posto dove inevitabilmente, magari crescendo, si perdono certe genuinità dell'anima, insomma. E quindi è più, quando l'ho scritta è stato un invito soprattutto a me stesso ovviamente, poi è diventata una canzone e quindi adesso diventa un invito a chi vuole raccoglierlo, a ritrovare questa spontaneità, questa purezza d'animo. Anche perché con l'avvento dei social, insomma, ci siamo tutti un po' sentiti in diritto di puntare il dito verso l'altro. E invece questa canzone è un invito a ritornare un po' ad essere più bambini, a giocare di più. Mi piace, mi piace questa filosofia. Allora, innanzitutto io devo subito salutare la sindaca di Gioici Lento, che è in rappresentanza del film Malum Eterni, e invito qui nel salottino, grazie all'aiuto di Gaetano, che fa parte del gruppo Giovani che aiuta il festival in questa organizzazione. Grazie, Gaetano, facciamo tutto live, tanto noi siamo informali. Buonasera, accomodati pure, Maria Teresa, sindaca di Gioici Lento, nonché amica mia, siamo cresciuti insieme con lei, col cinema. No, da sempre, infatti, dai, sentiamola subito. Bisogna sentirmi subito? Hai una domanda? No, nel senso che sicuramente i telespettatori ti hanno visto arrivare, quindi hai parlato, però non ti hanno ascoltato, perché senza microfono, tu me lo insegni in televisione, senza microfono. Guarda, tu sei uno dei pochi che riesce a rimproverare, facendo sentire malissimo chi ti ascolta, senza cambiare il tono di voce. Oh no, è una dote, il fatto di poter far sentire qualcuno a disagio appena arrivato, sei un ospite perfetto, grazie. Sei una carissima amica. Ok, questo sketch ovviamente noi lo improvvisiamo perché siamo bravi. Non lo taglieremo, mi raccomando la regia di Andrei Giaccio in televisione, questo non viene tagliato, va tutto... Vedo che ci fanno dei segni strani. Ah, dobbiamo guardare le due telecamere ragazzi, non Andrei. Si vede che siamo esperti nella comunicazione da lungo tempo e che in realtà, questo è il mio profilo migliore, di fronte è un po' diverso. Allora, battute a parte... Con l'età ti fai sempre più bella. Questo rientra sempre nel discorso di prima dell'ospite perfetto. Sì, certo che già avrò perso 3000 punti perché non sembro un sindaco oppure un politico tradizionale. In realtà sono qua perché il regista ediatore del cortometraggio di cui tu parlavi e che è qui in concorso non poteva essere presente per questa Milano, tra vaccini e cose varie. Ancora il Covid lascia il segno. Ci tenevo però a essere presenti perché in realtà questo cortometraggio è stato girato a Gioi, paese natale del regista di Luigi, ma non solo è semplicemente il luogo di nascita, ma l'idea, il progetto è stato sviluppato, dei luoghi. I luoghi sono magici, sono importanti. Molto spesso una storia viene strutturata o condizionata da un luogo. E questo è molto vero per il cortometraggio di Luigi, in quanto la scelta di quel casolare è legato ad elementi della sua vita vissuta e anche i personaggi non professionisti che sono presenti nel cortometraggio in realtà sono tutti quanti di gioia. Ci sono delle simpaticissime vicende attorno a un cortometraggio che dura 7-8 minuti. In realtà ci sono giornate e giornate di lavoro e la seria partecipazione dei miei concittadini. Io sono veramente orgogliosa perché non solo si prestano, ma quando si prestano lo fanno in modo professionale. C'è questa ragazzina di 12 anni, che tra l'altro lei è una campionista di karate, ha partecipato adesso alle nazionali ed è arrivata a sesta su più di 60 partecipanti e lei doveva fare la parte della vittima all'interno di questo orvenaggio e mi spiegava a Luigi che lei era talmente concentrata nel cercare di seguire le indicazioni del regista che a un certo punto lei ha pensato che non può essere che è la prima volta che partecipa. Ora, ritorno a dire, i luoghi. Perché poi girare un cortometraggio in un piccolo comune? Molto spesso si cercano anche dei set. In realtà il Cilento può essere un set per le scenografie, sceneggiature, anche per gli spettacoli. Perfetto. Uno, perché i luoghi raccontano. E tu hai in mente un'idea, arrivi in Cilento e trovi esattamente la location dei tuoi sogni. E anche al di là di quello che avevi immaginato. Ma non solo trovi la collaborazione, il desiderio di far parte di un progetto, che in alcuni luoghi non c'è. In alcuni luoghi, alcune comunità sono state talmente violentate dalla presenza massiccia che a un certo punto dà fastidio. Nel Cilento diamo fastidio sempre per altri motivi, però per questo no. Nel particolare il mio comune è pronto ad accogliere. E non lo dico in quanto sindaco che voglio ripopolare. No, proprio dal punto di vista artistico. Perché oltre al cortometraggio di Luigi, e poi mi taccio perché altrimenti parlerei per ore, e stiamo ospitando delle residenze artistiche. Poi ne parliamo. Ti blocco, ti fermo, come amica lo posso fare. E passiamo subito all'autore di cortometraggi, che è appunto Luca Di Paolo. Luca sanifica prima il microfono. E prima lo diceva Maria Teresa Scarpa, la sindaca di Gioi. Dietro a un cortometraggio c'è un sacco di lavoro, ci sono giorni e giorni di lavoro, anche se dura poi pochissimi minuti. Innanzitutto partiamo da te, dal tuo progetto Deet Mate. Ho detto bene? In realtà è Death Mate. Death Mate. Eh ragazzi, con l'inglese ci stiamo attrezzando. Nel 2019 sono stato a Las Vegas, me la sono cavata. Bello. Ma ritornerò per imparare di più. Eh vabbè, c'è sempre da imparare a normale. Allora, Luca, parliamo del tuo cortometraggio. Allora, Death Mate, sì, Death Mate in realtà ci ho messo parecchio per realizzarlo. È stato un lavoro che mi ha preso due anni e mezzo praticamente. E ci ho messo tanto per realizzarlo perché ho fatto tante stesure di sceneggiatura, per trovare il cast, gli attori proprio che volevo, Rocco Fasano e Blu Yoshimi, che ringrazio infinitamente per aver accettato il progetto. Ci ho messo un po' per assemblare proprio, diciamo, tutto il fattore, tutto il fabbisogno, anche macchinisti e via dicendo. Il cast tecnico, diciamo così. Il cast tecnico e artistico ci ho messo un bel po', ci ho messo, però alla fine ce l'ho fatta e niente. Sono molto contento del risultato perché è un cortometraggio che comunque è andato molto bene all'estero. anche abbiamo vinto come miglior corto indipendente al Toronto Film Channel Awards, ho vinto una menzione d'onore al Wids Film Festival in Australia. Insomma, è andato molto bene all'estero e insomma sono contento dei risultati raggiunti e sono contento che sia piaciuto anche fuori dall'Italia, insomma. Quindi per me è una soddisfazione anche perché Deathmate è un genere che comunque qui in Italia i produttori sono, diciamo, molto resti a produrre, motivo per cui poi l'ho dovuto produrre con, diciamo... I tuoi sforzi? Sì, con i miei sforzi l'ho prodotto perché per l'appunto, sai, il sci-fi, la fantascienza viene vista male, viene vista come qualcosa che non si può fare qua in Italia perché non abbiamo le risorse per VFX e via dicendo. Io invece ho cercato di raccontare comunque una storia facile da realizzare, però che allo stesso tempo avesse, diciamo, quegli elementi sci-fi perché per chi non conosce Deathmate parla, il cortometraggio parla di due persone che attraverso l'app decidono di condividere il suicidio insieme, cioè per l'appunto quest'app che si chiama Deathmate che accoppia persone per il suicidio, ma poi vediamo, insomma, senza fare spoiler, vedremo cosa succede nel corto. Esatto, non fare spoiler perché già il tuo intervento, ecco, come per magia, ha tanto interesse. Io ti faccio i complimenti per i premi, non ho avuto il tempo come direttore artistico per informarmi su di te e quindi davvero sono contentissimo ma soprattutto sono contento perché sei giovanissimo quindi mi ricordi un po' la mia infanzia, possiamo dire così, di quando cominciamo. Magari Maria Teresa è più piccola di me, ha un'età inferiore, anche se non lo dimostrano, insomma, no scherzo e quindi sono felice di ospitarti. Mi auguro che stasera la giuria che ci darà i risultati per capire chi dovrà essere premiato il 24 sera qui nel Castello dell'Abbate mi auguro che possa, insomma, inserire anche il tuo film. E allora, io adesso passo la parola, sempre sanificando il microfono, a Raffaele Pio Marrone che è sicuramente pronto a fare una domanda a uno di voi tre. E poi continuiamo a parlare sempre dei vostri progetti. e nel frattempo dico pure che alle 19 qui nel Castello dell'Abbate ci sarà l'esibizione della banda di Castello dell'Abbate ovvero Concerto Bandistico Santa Cecilia di Castello dell'Abbate per essere chiari con il titolo di questa associazione che eseguirà musiche da film. Quindi vi invito a continuare a seguire il canale e soprattutto ai nostri ospiti di correre qui al Castello, naturalmente chi è presente a Castello dell'Abbate per sentire e ascoltare questa bella musica. Vai Raffaele. No, ne avrei una per Marco e una per Luca, se fosse possibile. Assolutamente, ma la sindaca me la lasci poi in disparte, no? No, assolutamente sì. Allora, comincierei da Marco. Curiosando un po' su quella che è la sua biografia è emerso, insomma, magari potrà confermarlo, una grande passione per Rino Gaetano che è uno dei più grandi forse cantautori italiani. Ecco, la mia domanda è proprio questa. Come nasce la passione, come e quando nasce la passione per Rino Gaetano, insomma? Alla quale è dedicato anche un tributo, peraltro. Sì, io sono stato anche il tributo ufficiale per molti anni di Rino Gaetano e ho iniziato da piccolissimo ad ascoltare Rino Gaetano e quando, insomma, ho iniziato a fare i primi live, tra l'altro molto giovane, avevo 16 anni, insomma, già facevo live, c'erano dei locali, dei proprietari di locali che mi venivano a prendere a casa e mi riportarono non avendo la patente e quando facevo le canzoni di Rino Gaetano non se lo ricordava nessuno e questa cosa qua è stata più, quasi una battaglia, nel senso che poi ho detto, cioè, devo fare qualcosa per riportare comunque almeno, per quanto possibile, Rino Gaetano, diciamo, tra virgolette, in vita, no? artisticamente e quindi ho iniziato a fare questo tributo e mano a mano con gli anni è cresciuto sempre di più il pubblico e è riuscito fuori, ma c'è stato un periodo in cui non c'era nulla, non si trovava nulla, neanche una cassetta, un disco, niente. e quindi ho deciso di fare questo e adesso, invece, visto che è tornato e ne sono felicissimo, ho deciso di fare, invece, il mio album e di dedicare questa cosa alle cose mie, insomma. Però, diciamo che in tutti questi... c'era anch'io che facevo la parte del chitarrista, sono stato a Sanremo con Paolo Rossi a cantare un brano inedito di Rino e tra l'altro lì, o all'ultima serata, sono riuscito a riportare sul palco l'Ukulele di Rino, quello che portò nel 78 con Gianna. Tra l'altro, clandestinamente, perché lì dovevi fare delle domande, delle richieste e io ho preso l'ho nascosto e l'ho portato sul palco. Sono belle emozioni, comunque. Sì, molto. Una per Luca. Allora, anzitutto posso darti del tutto, sei giovanissimo, quindi... insomma, tu sei davvero molto giovane e quindi la mia domanda cade proprio sui giovani. Quale consiglio senti di darti, ecco, a coloro che, appunto, molto giovani aspirano a fare quello che fai tu, essenzialmente, a tu di cortometraggio? Allora, in realtà avrei una lista di consigli, perché veramente con gli anni ne ho vissute tante. Cioè, la prima, per quanto riguarda la mia esperienza, è di fare cortometraggi. In Italia, almeno per quanto riguarda il mio percorso formativo, ho avuto sempre percorsi in cui c'era una grande preparazione tecnica, poi nessuno ti faceva girare un corto. Ok? Io invece che ho fatto, sin da 19 anni, prendevo e mi facevo i cortometraggi io, per conto mio, e poi piano piano, insomma, li mandavo ai festival, poi di corto in corto si migliorava, e diciamo io questo ho fatto. Questo, diciamo, è il primo consiglio. Il secondo, magari, è, dopo che, insomma, hai fatto una scuola di cinema, hai imparato le basi, e via dicendo, il consiglio, in realtà, sarebbe poi di, magari, invece di investire cifre esorbitanti per scuole private di cinema e via dicendo, è di investire quei soldi nel cortometraggio che più vorresti fare, cioè, anche per sentirti più realizzato, insomma, comunque, quando vedi per la prima volta un cortometraggio che hai scritto e diretto, se hai fatto un bel lavoro, cioè, almeno per quanto mi riguarda, la soddisfazione è grande. Quindi io, diciamo, darei questi due consigli, poi è un po' quello che sto cercando di fare io, che sto facendo io, insomma. Quindi, diciamo questo. Grazie, grazie. Eccoci qua. Bene. Mi piace molto questo salottino. Maria Teresa, ti tocca, insomma, promuovere le attività di cui prima, perché, naturalmente, ti ho bloccata, perché volevo, insomma, fare in modo che il flusso della discussione fosse, ecco, molto più dinamico. tu lo sai benissimo, i tempi televisivi, insomma, no? Il cinema pure, che viaggia veloce, il web. E allora, le attività, a Gioci Lento, legate al cinema, oppure legate ad altre realtà, perché il tuo comune è una fonte inesauribile, diciamo, di possibilità e di idee. lo devo dire non perché sei mia amica, ma sei una sindaca non solo giovane, ma anche piena di idee. E quindi, raccontaci che cosa state costruendo a Gioi. Ma, in realtà, le idee molto spesso non sono le mie, nel senso che una cosa che noi abbiamo è quello di avere, tu parlavi prima, del fatto, fate. Allora, la cosa bella che ho riscontrato in molti giovani del mio paese, che studiano all'Accademia di Belle Arti o studiano cinema o fotografia, che, in realtà, mentre studiano stanno facendo, che poi è quello che ho fatto anch'io. Tanto tempo fa, 22 anni, mentre studiavo Scienze e Comunicazione, sono andata a fare l'Erasmus a Parigi e ho lavorato anche a Aure Disney, dove impari come le teorie comportamentiste vengono applicate nel lavoro. Quindi, tu vedi, ti senti un po' un cane di Pablo. Ed è interessante che poi tu riporti nella tua comunità l'esperienza. Però, che cosa accade? Che molto spesso ti viene detto non fa sforzi. Il dire a un giovane non fare sforzi è un suicidio. Esatto. Perché, invece, un giovane deve fare sforzo, deve fallire, per poi capire come creare il proprio successo e non essere insicuro. Io credo che sia importante per una comunità aprirsi e conoscere altri. Perché Joy, negli anni 70, era una comunità molto aperta in cui chi studiava fuori tornava nel proprio comune e creava. Creava eventi, avevamo un premio letterario dedicato alle pubblicazioni sul Sud Italia. Avevamo musicisti, artisti che venivano ed erano amici di tante famiglie del mio paese. Per cui c'è una certa sensibilità. E quello che stiamo facendo è semplicemente dare delle opportunità a chi già ha un talento o a chi lo vuole riscoprire. I piccoli comuni creano una grande pressione sociale sui propri abitanti. Le piccole comunità creano una forte aspettativa sui giovani mentre nello stesso tempo gli si dice non fare troppo. Quindi dobbiamo spezzare questa pressione dando opportunità e dandoci opportunità. In pratica che cosa facciamo? Noi abbiamo delle location le apriamo e diciamo puoi creare la tua residenza artistica da noi interagendo con la comunità interagendo con altri artisti danzatori musicisti attori scenografi sto costringendo Marcello Gallo che tu conosci di Giffoni a venire l'anno prossimo a tenere un laboratorio di scenografia nel campo scuola ma anche per gli artisti che poi saranno ospiti mi potrei dilungare all'infinito ma in realtà quello che voglio dire è che non è solo il mio comune c'è un intero territorio che ha le potenzialità per comunicare del resto altrimenti tu qui non faresti un festival se non ci fosse la tua caparbietà l'interesse anche delle persone a venire dobbiamo dare spazio a chi sa creare per un semplice motivo che la cultura si mangia non solo dal punto di vista economico abbiamo bisogno di nutrirci perché se noi non abbiamo un animo che è stimolato dobbiamo prendere gli antidepressivi e da donna dico soprattutto che se noi per primi non abbiamo motivo di vivere perché vivere l'arte la cultura ci servono come coltivare l'orto quindi il mio comune si candida ad ospitare degli artisti e visto che il sindaco è abbastanza schiavista costringiamo gli artisti a produrre potete venire a gioia solo se producete qualcosa che viene restituita alla comunità con una prova aperta o altrimenti vi costringeremo ad accompagnare i nostri anziani ottantenni nell'orto a fare pomarole e altro specifichiamo i tempi di percorrenza in modo tale che i nostri ospiti capiscano anche le distanze tra gioia e Castellabate gioia è il centro dell'universo quindi qualsiasi strada porta gioia i tempi di percorrenza sono relativi se la meta è così importante Gianni non volevo una risposta filosofica no battute a parte sono 45 minuti in macchina quindi come vedete siamo vicini alla fine purtroppo le strade nel Cilento insomma hanno un po' di problematiche però c'è chi arriva in elicottero a Joy lo sai ecco vedi però ci si può arrivare in elicottero e nello stesso tempo non conta la distanza ma il luogo cioè se a me piace quel luogo io percorrerei anche due tre ore vero Marco? certo bene aspetta che non ti sentano ha fatto sanifichiamo il microfono lo passiamo a Marco mi dà questa risposta che i telespettatori non hanno sentito e poi mi darà una risposta sulla seconda e ultima domanda che faccio ai nostri ospiti perché poi dobbiamo chiudere perché c'è il concerto bandistico Santa Cecilia mi dicevi tu ma adesso si sono persi tutti i tempi comici era no dicevo che avevo fatto quattro ore di macchina insomma per venire qui quindi perché tu vieni da Rieti da Rieti sì dalla provincia quindi sei d'accordo un paesino che si chiama Montenero Sabino pur di venire al Castellabate Film Festival perché gli piaceva l'idea si è fatto quattro ore sì però mi faccio anche quattro giorni qua che non è male insomma ecco quindi sono contento per questo prossima domanda e ultima i prossimi progetti di Marco Graziosi cioè cosa farai quando tornerai a casa? allora praticamente abbiamo fatto un progetto per un live ovviamente per promuovere il disco ma non solo perché il progetto si chiamerà Fioriscono le Viole scusami facciamo la pubblicità al disco il disco si chiama? sì il disco è un album omonimo si chiama Marco Graziosi e si può trovare sia in cd in vinile e in tutte le piattaforme digitali ovviamente e abbiamo fatto un progetto per promuovere il disco ma ripeto non solo perché si chiama Fioriscono le Viole ed io ogni regione dove andrò a suonare selezionerò dei giovani cantatori che apriranno e chiuderanno il mio concerto il concerto perché quello non è solo mio il concerto diciamo l'idea di un palco aperto di solito si fa che il giovane apre il concerto e fa da gruppo spalla a me non piaceva questa cosa allora ho pensato a fare anche il finale fatto dai giovani cantatori che ospiterò ogni in ogni posto dove andrò ma che bello questo non me l'aveva detto nel backstage pure perché noi facciamo le interviste informali loro sono tutti amici insomma grazie Marco Luca stessa domanda i tuoi progetti futuri dopo Death Meat ho detto bene stavolta sì sì assolutamente mi promuoveranno i miei ospiti new yorkesi che sono pure arrivati oggi no guarda Gianni nuovi progetti diciamo che ho tre cortometraggi in preproduzione quanti? tre di cui uno uno sarà animato tutto animato ma dobbiamo capire sono in preproduzione stiamo mettendo insieme i finanziamenti non so se riuscirò a farli tutti e tre mi auguro che però sicuro almeno uno tra i tre andrà in porto ci sto lavorando e niente non diciamo non dico altro oltre al fatto che in realtà di Death Meat mi piacerebbe fare la serie quindi tra i progetti futuri in realtà ci sarebbe anche la serie però ovviamente sappiamo che è difficile poi ho 24 anni ovviamente la serie non so se verrebbe affidata a me ecco però sto cercando di trovare delle produzioni a cui piaccia il progetto e insomma possono portare avanti anche la serie bene bene sono molto contento perché hai insomma delle idee molto chiare nel tuo futuro e complimenti davvero grazie la domanda ah prego si una cosa che vorrei che fosse fonte di riflessione per tutti quanti noi lui ha detto ho 24 anni come per dire sono giovane non investono magari su di me riflettiamo su una cosa 24 anni in Italia sei troppo giovane per investire all'estero 24 anni tu devi aver già raggiunto una serie di traguardi perché altrimenti non possono investire su di te è il contrario questa cosa dobbiamo terla molto presente perché i nostri competitor no? dal punto di vista culturale ci sono anche dei competitor lo abbiamo guardato così sono altri quindi abbiamo bisogno noi di avere ben presente che è su queste persone che dobbiamo investire perché altrimenti saremo talmente in ritardo anche fra tre anni saremo già talmente in ritardo che non potremo investire ancora quindi bisogna veramente dire sui ragazzi di 15 anni che cominciano a sperimentare quello che vogliono essere dobbiamo investire e su quelli io il progetto che raccontavi prima tu io vado a cercarmi i talenti e me li porto non sono in competizione con me anzi io ho fatto la mia scelta il mio percorso voglio fare da mentore o semplicemente dare un palco a chi se lo può meritare questo è un altro elemento importante che dovrebbero altri seguire purtroppo noi consideriamo dei piccoli club in Italia molto spesso la cultura è fatta di club tu entri in alcuni festival non questo perché tu sei assolutamente democratico scegli quello che vorresti far vedere al pubblico ma in molti contesti tu entri perché vieni presentato no? e devi essere in qualche modo allineato con un gusto come si fa a fare cultura se si è allineati con un gusto? ora ci sono tante cose che io detesto ma credo sia importante dare la possibilità al pubblico di avere una sua opinione e le comunità di crescere quindi 24 anni no 24 anni sei nella giusta età per continuare e devi assolutamente misurarti è la stessa cosa dobbiamo dire ai nostri giovani cilentani quindi grazie a te che stai facendo un lavoro così importante sul territorio grazie a te Maria Teresa che mi sopporti e mi supporti ok no perché è vero con lei insomma ne abbiamo sempre parlato e ci teniamo tantissimo l'idea di Maria Teresa è condivisibile assolutamente al 100% molto probabilmente ne stiamo discutendo in futuro molto probabilmente faremo qualcosa anche a gioi però sul settore horror sul settore horror quindi praticamente c'è un piccolo problema diciamo di telecamere di inquadrature no di inquadrature perché probabilmente la piazza il cortile del castello è bello proprio perché ecco qua si stanno allestendo una serie di situazioni quindi c'è qualcuno che ahimè passa davanti alla telecamera allora ci tenevo a salutare Anto Luca Infante che si è seduto distante Anto Luca perché chiederei a lui di avvicinarsi giusto un minuto prima di chiudere perché poi dobbiamo dare la linea al palco centrale Anto Luca è il mio assistente vieni Anto Luca prendi la sedia e accomodati a fianco alla sindaca oppure a fianco a me vieni a fianco a me sei il mio assistente però stare vicino a una donna è meglio però le sindache intimoriscono è vero è vero allora Anto Luca per la prima volta tu sei in diretta televisiva con noi quindi non essere emozionato no ok allora Anto Luca mi sembra che volesse fare una domanda agli autori di stasera eri distante quindi non so se hai capito bene che il mio autore è Luca di Paolo piacere vedi vedi come è preparato la pronuncia l'ha studiata studiato e poi c'è Marco Graziosi l'autore del videoclip di ieri sera dove hai messo Cappuccetto Rosso tu dove lo hai messo beh io intanto ho assistito al suo film Death Mate poi l'altro l'altro il videoclip il videoclip non mi è giunto sì l'ho visto io perciò allora potrei farti a te dando una domanda eh dai avvicina un poco il plot del film no è ispirato a una storia vera anzitutto perché ho visto parli di tecnologia app e poi in seconda istanza credi anche che l'obnubilazione prodotta proprio dalla tecnologia possa spingere dei giovani a commettere degli atti così fatali alla propria esistenza allora innanzitutto rispondo alla prima domanda che è veramente giustissima perché in teoria ho iniziato a pensare a Death Mate quando si parlava di Blue Whale non so se ti ricordi sì sì ho iniziato a pensare a Death Mate in quel periodo lì poi io sono un fan di Black Mirror la mia tesi di laurea è stata su su Bandersnatch proprio quindi tutta l'atmosfera diciamo distopica di Black Mirror che poi ha cercato un po' di riportare in Death Mate si è unita con un qualcosa poi di diciamo un qualcosa che paradossalmente potrebbe anche diventare attuale ovviamente Death Mate è un'app che nel cortometraggio si vedono i cartelloni per strada ovviamente una cosa del genere è una presentazione di una realtà apparentemente distante diciamo di una realtà più nascosta ma che però si rivela dai giovani anche perché comunque nel deep web nel dark web diciamo nei lati più nascosti del mondo di internet ovviamente ci sono queste queste realtà come ci sono anche giochi che comunque magari non ti portano al suicidio ma portano a forme di autolesionismo quello era proprio il blue whale infatti e quindi in realtà queste cose sembrano tanto distanti ma poi effettivamente così tanto distanti non sono perché comunque il ragazzo solo magari che va a cercare un determinato tipo di contenuto nel deep web anche solo per passaparola poi alla fine si può ritrovare in queste dinamiche qui quindi diciamo il plot parte da quello quindi è tratto propriamente da una storia vera diciamo un po' dalla storia no in realtà sono storie che però sì sono stati io diciamo che faccio questo quando scrivo e quando scrivo mi informo cerco di informarmi tanto di leggere tanto anche di attualità cose del genere soprattutto poi magari c'è un argomento di cui mi piacerebbe parlare per esempio con Deathmate ho letto tanto di casi simili un po' come farebbe magari un cantautore anche impegnato che vede che ne so una notizia giornalista e la vuole riportare assolutamente ma è proprio quello stile Rino Gaetano sì sì ma poi secondo me cioè comunque al giorno d'oggi le storie ce ne sono talmente tante che si muovono anche attorno a noi che l'abilità dello scrittore non è avere l'estro e inventarsi la storia da zero ma è proprio cogliere mettere insieme una serie di cose che vengono dal mondo circostante in un'opera filmica ok in un'opera filmica ragazzi il mio mestiere è quello anche di tagliare non solo al montaggio ma anche per i tempi televisivi certo grazie Luca grazie Anton Luca la seconda domanda purtroppo ragazzi per i tempi certo no gliela facciamo nel backstage i nostri telespettatori devono vedere Deathmate ho detto bene? benissimo benissimo Deathmate ma come lo stiamo pubblicizzando però hai avuto di più rispetto a Marco no ma Marco è già andato quindi ha pure già il premio ha vinto ha vinto ha vinto qualcosa non diciamo cosa ha vinto naturalmente e quindi lo vedrete ricevere un trofeo il 24 mentre non sappiamo se Luca Di Paolo riceverà il premio perché la giuria dei cortometraggi si esprimerà stasera con busta chiusa naturalmente quindi io devo chiudere ringrazio Anton Luca per la sua prima apparizione in televisione un assistente eccellente e poi l'ho buttato lì così al volo ma no ma anche con la nostra amicizia e conoscenza cioè ci siamo visti ci siamo piaciuti come la figura di Afana mi sono trovato qui praticamente sono arrivato quasi dall'iperuraneo allora io ringrazio la sindaca Maria Teresa Scarpa e salutiamo il regista Luigi Scarpa Malum Malum Eterni poi salutiamo Marco Graziosi dove hai messo Cappuccetto Rosso lo scopriremo fermati no mi ricordo bene Luca Di Paolo Death Mate Death Mate mannaggia ragazzi Raffaele Pio Marrone il mio addetto stampa del festival Anton Luca Infante il mio assistente del festival in regia televisiva Andre Giaccio Gerry Giaccio alle riprese Daniele Romualdi ai social e i ragazzi di We Station Cilento nell'assistenza nel palco grazie a tutti voi seguiteci sul nostro canale Cilento Channel grazie a tutti ieri e grazie a tutti ieri